Abbandonato e ricettacolo di rifiuti di ogni genere sarà ripulito nelle prossime ore dalla cooperativa sociale ex detenuti di Gela. Stiamo parlando del Giardino dell'Acropoli adegente al Museo archeologico regionale. L'aria, così come dimostrano le immagini, è degradata in ogni dove. Grazie al Lions Club Gela, presieduto dall'avvocato Tonino Gagliano, che ha ricevuto dall'amministrazione comunale l'affidamento del Giardino, i fratelli Rocco e Angelo Bassora si metteranno al lavoro al fine di ripulirla. Una forma di riscatto sociale per chi negli anni si è macchiato di diversi reati e ha scontato i propri conti con la giustizia. Noi daremo come il massimo il nostro contributo a pulirla e spero che dopo che finisce con questo l'amministrazione comunale e il sindaco ci dà la possibilità di lavorare anche a pulire Gela, il mio paese. I due fratelli vogliono contribuire alla crescita della società e chiedono una ulteriore mano d'aiuto al comune. E questa è una possibilità che noi chiediamo della massima umiltà perché ci sono padri di famiglia come me che hanno bisogno di lavorare però non già hanno la forza di parlare della televisione e non hanno lo spirito combattivo quello mio e hanno la speranza che io gli do il lavoro. Io chiedo all'amministrazione comunale veramente con tutto il cuore se ci può dare una mano a vivere onestamente. Noi non chiediamo niente, noi chiediamo solo mezza giornata di lavoro e non uno stipendio sa che cosa. Con 6-700 euro al mese noi possiamo vivere con la massima serenità e tranquillità. Noi chiediamo questo. Noi possiamo fare qualsiasi lavoro, no a parte questo. Possiamo fare il lavoro dell'edilizia, della metà meccanica, di pubblicità, di bianchini. Possiamo fare tutto, tutti i lavori che ci sono li possiamo fare e noi li faremo sempre al meglio e daremo il massimo. Il passato è stato riposto nel dimenticatoio. Bisogna guardare solo avanti. Ora sono padre di tre figli e capisco gli errori che ho fatto. Certo, ora parlo di una persona di 44 anni. Gli errori li ho fatti a 18-20 anni. Mi mancava tutta l'esperienza e non avevo l'esperienza che ho oggi. E oggi capisco veramente che cosa significa sbagliare e che cosa significa fare le cose giuste. E un consiglio che diamo ai giovani che purtroppo delinquono? Un consiglio che do ai giovani è di non sbagliare e di pensare veramente, di vivere onestamente perché c'è tutto da perdere.